I vigili del fuoco da parte loro stanno svolgendo indagini tecniche per capire che cosa è successo nella stanza di Villa Serena in cui hanno perso la vita due pazienti. Tecnicamente come state svolgendo il lavoro? Certo, oltre a indagini tipo tecniche, quindi sugli impianti, sui materiali che sono presenti all'interno dei locali in cui c'è stato l'incendio, stiamo facendo anche indagini di tipo documentale. Poi stiamo sentendo insieme ai carabinieri tutto il personale che naturalmente è stato interessato dall'evento dell'incendio. Ecco, ci sono tante ipotesi, forse la più accreditata è che magari qualcuno stesse fumando, forse uno dei pazienti in quella stanza, però dovete vagliare anche questo. Certo, è un'ipotesi che sicuramente non viene trascurata, cioè le indagini che fa il NIAT, quindi il nostro nucleo investigativo antincendio, e prevede in questa prima fase che si raccolgano i dati, quindi questa è una fase in cui si raccolgono tutti i dati che si possono avere a disposizione, quindi foto, filmati, video, materiali, prelevi di materiali, controlli sugli impianti. Poi successivamente si faranno delle ipotesi e si verificherà se queste ipotesi sono congruenti con i dati che abbiamo raccolto. Questa è la metodica che utilizza questo nucleo specialistico. Da quello che siete riusciti a capire, gli ambienti seguivano le norme a livello di arredi indifughi? Da un primo controllo sì, è chiaro che adesso stiamo facendo dei controlli più approfonditi, stiamo guardando la clinica, è un'attività soggetta al nostro controllo, quindi stiamo guardando le carte, i progetti per verificare che i locali e gli impianti fossero a norma. Per quanto riguarda le tempistiche di conclusione di questa fase preliminare delle vostre indagini, secondo lei quanto tempo ci vorrà? Io credo che nel giro di una settimana dovremmo consegnare la nostra relazione alla procura, compresa delle indagini fatte dal NIAT. Le problematiche che possono ritardare sono dati ulteriori che poi noi possiamo ricercare in relazione agli accertamenti che si stanno facendo. A livello di allarme è scattato subito, siete stati subito avvisati, come sono andati fatti quella sera? Nel momento in cui siamo stati avvisati, nel giro di qualche minuto, abbiamo un presidio di volontari a Montesilvano, è riuscita ad arrivare sul posto in 8-9 minuti. Poi immediatamente dopo sono arrivate due squadre dalla centrale di Pescara, quindi il nostro arrivo e il nostro intervento è stato tempestivo. Questo insieme poi a quello che è stato fatto anche dagli operatori sul posto ha consentito di limitare al minimo i danni, anche se purtroppo i danni più gravi sono state le due vittime che sono state interessate dall'incendio. Quello che è successo dal momento in cui è avvenuto l'innesco del materiale che ha dato poi luogo all'incendio, cioè i tempi poi di intervento eventualmente degli operatori, sono al vaglio degli accertamenti che stiamo facendo. Con l'innesco l'avete trovato? Diciamo che siamo sempre in fase di ricerca e di ipotesi di dove si è scaturito l'incendio, quindi naturalmente questo è ancora da verificare.